È stato sempre un Papa molto riservato, però secondo me ha fatto del bene e si è operato tanto per le persone e per il mondo, quindi lo ricorderemo sempre bene. Secondo me ancora dobbiamo aspettare un pochettino per vedere la ricchezza che lui ha portato alla Chiesa. Io ci credo molto che è un Papa molto sconosciuto, è stato emerito, in verità per me non è stato mai emerito, è stata una vita della Chiesa, il Papa, ha portato una ricchezza grande, una persona che delle cose principali, molto importanti, ha parlato con le parole molto semplici e molto chiare per me. A me lui personalmente ha aiutato a capire la Chiesa. Ricordo di un grande studioso, un grande filosofo, una persona, come dire, di una cultura immensa, vastissima, sicuramente un Papa molto diverso da Papa Francesco. Sicuramente l'immagine è che è stato il primo Papa che ha avuto il coraggio di dimettersi e quindi è stato comunque un personaggio coraggioso. In realtà dietro a una facciata che un po' riflette la sua origine, la sua prevenienza, c'era un cuore molto tenero e buono, molto delito alla gente. Io me lo ricordo come Papa, poi è una tua figura molto umana, mi commuovo sempre quando parlo di Papa e sono sempre persone che hanno una certa non so che.